Esce di casa in bici con l'intenzione di andare a rubare, ma non avendo gli attrezzi del mestiere, prima roviste in un furgone di alcuni operai dell'Enel, dove prende il materiale necessario, e poi si introduce in una villetta. Parcheggiate nel giardino ci sono due autovetture, e lì il 42enne, protagonista del furto, grazie all'attrezzatura che si era procurato, riesce ad aprirle e ad asportare gli oggetti di valore che c'erano all'interno. I proprietari però avvissano l'uomo e gli urlano di fermarsi, ma il malintenzionato prende la bici e scappa. A quel punto le vittime salgono su di un trattore e lo inseguono. Vistosi bloccato, il ladro abbandona il veicolo a due ruote e lo zaino, e si getta in mezzo ad una fitta boscaglia di rovi e spine. Chiamato al 112, in poco tempo arrivano i carabinieri di Saltara, che si mettono alla ricerca del fuggitivo ma senza immediati riscontri. Con il calare del buio i militari si appostano a ridosso della boscaglia, nella convinzione che il 42enne fosse ancora all'interno, di fatti convinto di averla fatta franca, al calare del sole è uscito. Alla vista delle forze dell'ordine non ha opposto resistenza, ma ha solo chiesto di essere curato, perché i rovi l'avevano ridotto ad una maschera di sangue. Dopo le medicazioni al pronto soccorso, L'uomo, residente a Cartoceto ma originario della provincia di Cosenza, è stato tratto in arresto e in flagranza di reato per furto in abitazione e ricettazione. Al processo per direttissima, tenutosi giovedì mattina nel tribunale di Pesaro, ha ammesso le proprie responsabilità, patteggiando una pena di sei mesi di reclusione. La refurtiva invece è stata restituita ai legittimi proprietari.